Abbiamo fatto una giostra sottotono, di sicuro ci aspettavamo tutt'altro risultato, quindi a questo punto dovremmo analizzare quello che è successo, perché dal foro bisogna veramente di cambiare mangi, ancora noi ci siamo riusciti, la soluzione è continuare a lavorare a testa bassa per cercare di risolvarsi, sarà un inverno lungo. Verranno rimesse in discussione tutte le scelte fatte finora oppure c'è qualcosa per salvare? Assolutamente no, rimettere in discussione sempre tutto è quello che ci ha fatto arrivare a questo punto, a 11 anni di sconfitte, quindi ripartiamo da dove siamo per cercare di migliorare.